Mi fai paura con queste cose. Mi fai i muri per il nonno. Esatto. Perché poi se no lui non vedi i muri non passa. No, buttalo qua, dopo ti tornano su, buttalo di traverso. Se li butti di traverso non scendono più dopo. Non è vino a buttarle su un pezzettino. Oh, quel piano, figa! Li trovi tutti in mezzo, bisogna metterli su Marco. Passiamelo qua. Marco, dopo li trovi tutti in mezzo quelli. Prendete questo. Questo. Prendete quello. Oh, 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 ohhh! ma ti dentro bene tira sul macete Marco che sennò lo dimentichiamo c'è lì davanti no se ci passi lasciali cazzo te cacchio di cose non le puoi toccare basta non tagliarne più però sei solo sulle rive portate l'uomo via portate l'uomo via portate l'uomo via questo lo mettiamo lì non lo vuoi questo quello va bene a bruciare devi darglielo al pietro metti su di fianco metti su di lato lì che bastardio questo è secco anche lui eh occhio eh ormai sono chiuso dentro questo vado taglielo con le mani guarda guarda quello lì lo dobbiamo fare quindi non buttargli su roba lo stasso lì guarda quello il popito come sotto quando diventa un po' dura no intorno guarda no guarda E' un'altra parte. Sì, ma loro arrivano da sopra. Spampi, mi sa che qua ci passa solo la volpe, anche se pulisco, però di lì c'è l'altro sentierino che va su. I primi mettiamo il sasso con il nome sotto come mi dita, questo vito devi togliere, guarda spampi, e va fuori, bravo, piano eh, no devi tirarlo in giù eh, oh, dobbiamo passare di qua, tirarlo via, va tagliato in mezzo e messo lì, qua dobbiamo impassare, dobbiamo uscire da qua. Sì, che li butti là e basta. E tu ci credi ancora? Fammi servire la mia seghetta, cazzo. Vito, Vito, dammi un secondo, che taglio via questo. No, è andare di là. a te, dopo viene il zio, si aveva la parete, dai! Un'altra volta! Un'altra volta! che poi che pudi qua, ti arrebbero meglio lì, si arrivi lì, e poi da lì prendi il pezzetto andare perché da qua mentre di qua perlomeno fai un pezzo dopo parto in piano mettiamo due o tre legni cazzo vada questa sta su per quel sasso lì guarda che incredibile tante volte cazzo si è appoggiata al sasso sta su per quello con questa qua che gli rusa sulla testa incredibile non è male anche perché sopra lì poi c'è tutta la vista della cosa sotto si può fare tutto il bordo che va in giù anche da lì